ciao ragazzi bentornati sul canale iron manager sono appena tornato all'allenamento in piscina mentre un ottavo facevo questo paio di riflessioni visto che dopo la pubblicazione del mio allenamento settimanale in stile hybrid su instagram dove ho dato tutti i dettagli di tutte le mie sessioni se non l'avete visto andate pure sul mio profilo instagram e li potete copiare letteralmente la scheda questo è quello che sto facendo in questa fase di off season ovviamente ci sono stati diversi commenti di persone che hanno chiesto se è umanamente possibile sostenere una frequenza volume intensità di allenamento come quello chiaramente tutto è relativo tutto è soggettivo e individuale e io stesso sono arrivato a quel volume con l'intensità con la frequenza di allenamenti nel corso del tempo attraverso mesi e mesi di allenamento non mi sono sognato di cimentarmi in un protocollo di quel tipo chiaramente dal giorno alla notte questo è un aspetto molto importante che fa riflettere anche su quello che è il nostro percorso ed è questo infatti che secondo me anche l'aspetto più interessante di un percorso di fitness se penso per esempio al nuoto fino a un anno fa quando sono tornato a nuotare in acqua e libere tornato sembra che prende l'abbia fatto da da giovane non ho mai nuotato in acqua e libere ho sempre nuotato in piscina con corsi dei bambini però niente di strutturato non ho mai fatto nuoto agonistico però quando sono tornato a poeto a nuotare e l'ho fatto in acqua e libere a malapena riuscivo a fare 100 metri prima di annegare completamente senza fiato avevo paura di tutto non sapevo dove stavo andando andavo completamente storto adesso invece il nuoto non è più un problema questo per me è potentissimo cioè invece di compararmi con altri vedere effettivamente da dove sono partito con diciamo una disciplina dove magari non ero particolarmente allenato come magari il bodybuilding e dove sono arrivato adesso dove anche adesso appena concluso un allenamento di 3.000 metri nuoto senza problemi senza è la routine la normalità e ovviamente già nel 2024 sto progettando di fare diverse nuotate in acque libere diverse gare anche con italian open waters proprio perché è diventato una parte integrante di me e mi piace tantissimo nuotare e se posso farlo anche con un po di turismo visitando alcune delle città dei posti più belle d'italia anche dalla costa mentre nuoto wow fantastico quindi questo aiuta un attimo a capire come effettivamente una cosa che se a me avessero detto un anno fa guarda arriverai a fare 3.000 metri a sessione di nuoto settimane farai tre sessioni a settimana quindi 9.000 metri di nuoto a settimana io avrete appena ormai annego sono terrorizzato dalla poseidonia ormai annego con le onde tutto è impensabile questa cosa quindi ovviamente non ho voluto aggredire vedo che molti miei colleghi ovviamente aggrediscono i commentatori su instagram pensando subito che ci sia della malizia o diciamo un secondo intento da parte di queste persone sicuramente in alcuni casi c'è invece di aggredire queste persone ovviamente sono entrato nel loro panni e ho effettivamente cercato di capire come io avrei ragionato anche un anno fa sarebbe stato impensabile riuscire a sostenere il volume di allenamento non solo nel nuoto ma anche corsa ciclismo bodybuilding un anno fa come ovviamente riesco a fare adesso però ovviamente nel frattempo mi sono preparato per uno sprint triathlon sono entrato nella mentalità del concurrent training dell'allenamento ibrido e quindi questo è più o meno la normalità per me e quindi ovviamente però bisogna arrivarci in maniera graduale questa questo è l'aspetto fondamentale non sicuramente anche se ovviamente il titolo era copia la mia scheda di allenamento non lo intendevo in termini letterali prendi e fai un copy in colla letteralmente di tutto quello che sto facendo adesso ma prendi spunto e ovviamente adatta in base a quelli che sono le tue caratteristiche il tuo livello di allenamento una particolare disciplina come giustamente hanno commentati altri se non c'è la possibilità di accedere a una piscina sostituire le sessioni di endurance con altro l'importante se uno vuole cimentarsi in un allenamento ibrido e variare un attimo la routine di allenamento è quello di alternare inizialmente senza fare sessioni doppie giornaliere ma alternare una giornata dedicata all'allenamento con i pesi e una giornata invece dedicata all'endurance dove può essere una bicicletta una corsa una nuotata a seconda della disponibilità e anche delle preferenze personali perché ovviamente ripeto non sono qui a imporre a chiunque di fare un triathlon o di cimentarsi in tutte le discipline del triathlon uno può ovviamente fare e deve fare quello che piace e che da diciamo più più soddisfazione che rende l'allenamento settimanale più stimolante in assoluto poi sempre mentre in piscina mentre ogni spagliatore a cambiarmi quando faccio queste sessioni di cardio a medio alta intensità quindi non a intensità altissima ovviamente partono gli ormoni del benessere serotonina e quindi automaticamente partono delle riflessioni il processo mio creativo pensavo al fatto ne ho parlato già in altri video l'importanza dell'ambiente delle persone cioè ambiente non come semplicemente la palestra o il centro sportivo dove ci alleniamo ma proprio anche le persone che abbiamo intorno e che praticamente sono anche i nostri punti di riferimento quindi sempre relativamente al discorso del volume allenamento di un protocollo in stile ibrido recentemente ho avuto sotto mano per esempio l'allenamento di un mio amico che fa Ironman quindi gare di triathlon decisamente più lunghe rispetto al mio misero sprint triathlon che ho fatto che ho fatto quest'anno e io stesso ovviamente in questo caso mi sono messo nei panni dei miei commentatori del post di Instagram che ho pubblicato ho per un attimo dubitato della possibilità di riuscire a fare quel tipo di volume perché prima dicevo per esempio sessione di nuoto io faccio 3000 sessione lui invece fa un 6000 metri sessione il doppio con una velocità che è il doppio della mia e ovviamente inizialmente c'è subito lo shock e la sorpresa ma come è possibile ma qua ha cambiato qualche numero magari con con photoshop ha cambiato i numeri su strava e adesso mi sta facendo vedere questa cosa per farmi rodere quando in realtà poi facendo una piccola riflessione rendendo conto che questa persona non sta facendo non è alle primissime armi non ha fatto un triathlon uno sprint triathlon ma macina degli Ironman chiaramente ovviamente questa persona ha un livello e una capacità cardiorespiratoria che è nettamente superiore alla mia e quindi invece dopo i primi secondi ovviamente di shock e di perplessità è partito invece il wow che bello anch'io spero di poter arrivare a questi livelli tra qualche anno magari non ci arriverò mai perché lui effettivamente è un campione però magari avvicinarmi anche solo a questi livelli è super stimolante quindi questo deve fare capire un altro concetto fondamentale discorso del dell'ambiente delle persone che abbiamo intorno finché ci circondiamo di persone che non sono motivate o che si allenano che vanno in palestra giusto per timbrare il cartellino e per dire sì ho fatto un allenamento settimanale perché il coach me l'ha imposto ma in realtà invece di avere questo atteggiamento si allenano si allenano duro e si allenano più di te automaticamente se sei una persona competitiva come come sono io trovi questo come un super stimolo per continuare a migliorare poter effettivamente sperare di poter fare un ulteriore salto di qualità quindi se guardo per esempio il mio percorso e mi riferisco sempre a nuoto perché ho appena nuotato perché le riflessioni erano relative a questo tipo di allenamenti però come dicevo prima se un anno fa o meno di un anno fa ormai annego fare 100 metri in acqua libere adesso faccio 3000 metri a sessione magari dopo insomma questa fase di preparazione alle gare del 2024 riuscirò a fare 4.500 metri per sessione comincerò ad andare più veloce e questo ovviamente è super stimolante e vedere che persone vicino a noi quindi non Michael Phelps o i campioni olimpici riescono a fare cose monetamente superiori a quelle che sono le nostre prestazioni per me è super stimolante grazie a tutti